Ciao a tutti, sono Roberto Borrelli, bentornati sul mio canale. Velocissimo video, due minuti, due. Ieri non ho fatto in tempo a fare il video, parlando del mio nuovissimo Tatticalotto 2022-2023, e guardate che cosa è successo. Al primo colpo, il secondo metodo, quello di cinque numeri, di cui i primi due sono validi per ambata sulla prima ruota, ma tutti e cinque sono validi per le due ruote scelte, e di base le due ruote da scegliere sono Bari e Cagliari, poi potete fare tutte le prove, tutte le modifiche che volete, ma semplicemente con Bari e Cagliari, ieri, chi ha giocato questi numeri, ha preso il terno 67-7-17 al primo colpo sulla ruota 2, cioè a Cagliari. 67-7-17, terno, non parliamo neanche di ambo, io qui ho scritto Tattica 2, 2 più 3 numeri per ambata e ambo, ma attenzione perché ho già fatto vedere che escono i terni. Quindi bellissimo risultato ieri dal programma che si chiama Tatticalotto 2022-2023. Attenzione che adesso cliccando su ultima, nuovo pronostico, c'è un pronostico dove addirittura c'è anche un numero mancante, cioè c'è una N, quindi si giocano solo quattro numeri, quelli sono da seguire assolutamente, Bari e Cagliari. Approfittate, prendete questo programma adesso che costa poco, sotto trovate il link per ordinarlo subito, funziona con tutte le versioni di Windows, è molto leggero, molto efficace, le estrazioni si aggiornano in modo automatico da internet, basta premere uno di questi bottoni a sinistra e potete anche chiamarmi e scrivermi insomma al numero WhatsApp che vedete qui in alto a destra. Tatticalotto programma per Windows, da avere assolutamente, se seguite il lotto e vi piacciono i programmi sul computer, questo Tatticalotto dovete averlo, ciao ciao, ecco qua, due minuti precisi, grazie per l'attenzione, come sempre metti mi piace, iscriviti al canale e smarca la campanellina per essere avvisato ogni volta che emetto video. Ciao ciao, a presto. Ciao, a presto.